Uno yacht ha rischiato di affondare nelle acque antistanti la spiaggia di Capobianco a Portoferraio. Erano circa le 12 quando l'imbarcazione, la Scica Camata, un 22 metri battente bandiera italiana immatricolato nella marineria di Venezia, che era diretta verso la Darsena Medicea, probabilmente a causa di una distrazione di chi si trovava al timone in quel momento, è passata proprio sopra le secche di Capobianco, incagliandosi parzialmente sul fondale. Lo yacht, evidentemente danneggiato nella parte posteriore dello scafo, si è ben presso inclinato sul lato destro verso terra, alzando nello stesso tempo la prua a causa dell'acqua imbarcata nella parte posteriore dello scafo. Subito sul posto i soccorsi, con tre motovedette, una dei carabinieri, una della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera, arrivata sul posto anche con due gommoni. Gli occupanti dell'imbarcazione, le tre persone d'equipaggio fortunatamente illesi, sono stati fatti salire per precauzione su un gommone trasbordati su una motovedetta, mentre si cercava di provvedere a stabilizzare l'imbarcazione, nell'attentativo di trainarla in rada. Le operazioni sono state condotte in prima persona dal comandante del porto, capitano di fregata Antonio Catino, e sono risultate particolarmente laboriose. Si è cercato infatti di isolare la zona della chiglia interessata dalla falla che si era creata nello scafo, togliendo l'acqua grazie all'uso di pompe in dotazione delle motovedette.